Una serata magica ricca di suggestioni rivolta a grandi e piccini perché si sa il cielo, lo spazio, le stelle fanno sognare. Sabato 31 luglio a Agnardo presso il centro sportivo Mr. Sanders in località Crest, occhi puntati verso l'infinito. A partire dalle 19 grazie al lavoro della cooperativa al castello e di promozioni 360 di Loretta Tabarini avrà luogo un vero e proprio picnic sotto le stelle cui seguirà una serata in compagnia degli astronomi e di Astronomi Italy che consentiranno ai partecipanti che possono prenotarsi al numero 339-88-24098 di osservare il cosmo dal proprio telescopio. Sabato 31 abbiamo in programma presso il centro polisportivo Mr. Sanders del Crest di Gniardo che gestiamo come cooperativa. Un evento molto importante, è un evento che non è mai stato proposto in Valle Camonica e siamo fieri di proporlo per primi. Questo evento ha ottenuto il patrocinio della regione Lombardia, della comunità montana, della provincia di Brescia, del comune di Gniardo. Lo stiamo svolgendo in collaborazione con promozioni 360 di Loretta Tabarini. Inizia alle 7, ci sarà il picnic sotto le stelle per chi vuole partecipare oppure per chi non vuole partecipare al picnic. Dalle 21 ci sarà l'evento di astronomia in collaborazione con Astronomi di Roma. Questo evento prevede un astronomo che spiegherà il nostro cielo e ci farà fare un viaggio in 3D. È sicuramente un evento molto emozionante e pensiamo di poter incontrare il benestare e la collaborazione di tutti. Gli astronomi di Astronomi Italy avranno delle apparecature particolari per visualizzare il cielo e quindi sicuramente sarà un viaggio veramente molto emozionante per grandi e bambini. Ci saranno anche delle sorprese per cui aspettiamo veramente tutti a questo evento. Grazie a tutti.